Come fare a pagare meno tasse? Diciamoci la verità, è roba da dilettanti. Chi oggi sul web ti propone di vieni da me, che ti faccio pagare meno tasse, probabilmente non capisce niente di fiscalità, probabilmente né nazionale né internazionale, soprattutto se lo fa dall'Italia. Oggi la vera domanda che da imprenditore, soprattutto da imprenditore digitale, dovresti porti è come fare a massimizzare le tue libertà, la tua libertà personale, la tua libertà finanziaria e la tua libertà fiscale. Sì perché per il semplice, non tanto semplice, non tanto scontato fatto, direi piuttosto oggi di essere nato cittadino dell'Unione Europea, ti sono garantite per diritto dal giorno 1 della tua nascita alcune libertà fondamentali, garantite, sancite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che ti garantiscono l'accesso a strumenti in realtà straordinari, di cui nessuno parla, soprattutto all'interno della penisola italiana. Sono strumenti straordinari perché ti permettono, semplicemente guardando un po' più al di là del tuo naso, la possibilità di massimizzare davvero le tue libertà, ma soprattutto quello che ne consegue, e cioè risparmi fiscali leciti e legittimi, più ricavi, più tempo per la tua attività imprenditoriale, soprattutto meno burocrazia. E quindi la seconda domanda che dovresti farti conseguentemente è che cosa c'è al di là del confine italiano per me, e sì perché al di là del confine italiano esistono numerosissime giurisdizioni, ognuna con i suoi pro, ognuna con i suoi contro, ognuna di esse a seconda della maniera in cui la andiamo a utilizzare, la andiamo a sfruttare, può aumentare o diminuire la nostra libertà e la nostra responsabilità fiscale, finanziaria e personale. Gli strumenti sono tanti, sono vari e soprattutto sono in continuo aggiornamento e in continua evoluzione. Tax Planning Internazionale nasce con l'obiettivo di svelare l'abilità al di là del confine italiano e di indicarti esattamente che cosa c'è per te e come puoi utilizzarlo in maniera esattamente e completamente legale per arrivare al massimo grado di libertà fiscale, finanziaria e personale. Troverai all'interno del canale una serie di informazioni che fanno il focus su determinate giurisdizioni e soprattutto su quali sono i misunderstanding oggi disseminati per la rete, quindi ti porteremo a capire che cos'è l'estrovestizione, che cosa puoi fare dall'Italia, che cosa non puoi fare, quando ti conviene andare al di là dell'Italia, quali sono le agevolazioni, com'è possibile e com'è meglio comportarti se si investe in criptovalute, se sei un trader professionista piuttosto se sei un imprenditore digitale. in termini di imposte dirette e in termini di IVA. Tax Lending internazionale si occupa esattamente di piani di residenza e trasferimenti fiscali e quindi se sei un imprenditore alla ricerca di un posto migliore dell'Italia per fare impresa, quello che facciamo è farti capire quali sono le n possibilità sul tavolo e ti accompagniamo dall'altro lato insieme al tuo business, oppure laddove ci sia la possibilità di internazionalizzare davvero il tuo business e non di aprire società a caso perché l'ennesimo consulente farlocco del giorno ti dice apri qui e apri lì senza capire un fico secco di fiscalità, ti andremo a indicare quali sono le possibilità reali di internazionalizzare il tuo business nel rispetto delle regole internazionali. Io sono Luca Tagliallatela, questo è il canale Tax Planning internazionale, ti invito a cliccare like ma soprattutto iscriverti al canale e ad accendere le notifiche per ricevere i nostri aggiornamenti in tempo reale. Noi ci rivediamo all'interno del canale.